I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno scoperto uno sversamento di acque refluo e fognari nel fiume Posto Leone. Scorre sui monti peloritani attraverso il bellissimo omonimo Canyon, luogo conosciuto tra gli appassionati di escursioni in territorio di Mongiuffi Melia, una situazione determinata dal cattivo funzionamento del ciclo di depurazione che ha fatto scaturire il sequestro dell'impianto comunale del centro ionico. Sono stati militari della Guardia di Finanza di Taormina ad effettuare sopralluoghi in più siti naturalistici del territorio, rilevando la contaminazione ambientale riconducibile al mal funzionamento e cattivo stato di manutenzione e gestione dell'intero impianto di depurazione delle acque refluo e provenienti dal sistema fognario comunale. Nell'alveo del corso d'acqua si è verificato lo sversamento non autorizzato di reflui non depurati provenienti dalla condotta che porta le acque fino alla vasca di decantazione del depuratore. Dagli accertamenti sull'impianto di depurazione effettuati presso l'ufficio tecnico del comune è stato accertato come oltre all'assenza di autoanalisi prevista per legge delle acque in ingresso ed in uscita dall'impianto mancasse totalmente l'autorizzazione allo scarico dei reflui fognari nelle acque superficiali in quanto scaduta nel lontano 2008 e non più concessa dalla regione. Da qui in attesa delle analisi delle acque l'impianto è stato sottoposto a sequestro preventivo convalidato dalla procura della Repubblica di Messina. Tre persone sono indagate per inquinamento ambientale, getto pericoloso di cose d'omissione di atti d'ufficio.